Tentato omicidio in provincia di Agrigento, nei confronti di un trentenne. L'episodio si è verificato giovedì sera a Ravanusa, dove un uomo tunisino è stato raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco nei pressi di un bar nel centro della località in provincia di Agrigento. L'uomo ferito è stato soccorso e inizialmente, non ritenuto in pericolo di vita, è stato trasportato all'ospedale di Canicattì. Poco dopo, a causa di alcune complicazioni, è stato trasferito all'ospedale Villa Sofia di Palermo, dove è ricoverato in rianimazione. Le indagini sul tentato omicidio sono condotte dai carabinieri che hanno già verificato l'eventuale presenza di impianti di videosorveglianza nella zona.